Vietato l'ingresso 2021 ha avuto una grande risonanza. Abbiamo deciso di rifare i 17 camerini del teatro chiamando 17 studi di interior design per un evento che ha richiamato oltre 10.000 presenze. Il pubblico ha votato il camerino più vicino al mondo del teatro. Lo studio Calvi Ceschia e Vigano Architetti Associati con il camerino Diorama ha vinto questo contesto online. Dopo appunto la vittoria del camerino Diorama abbiamo iniziato questo percorso. Adesso si parte con la seconda puntata del progetto che sarà inaugurato a ridosso del Salone del Mobile di quest'anno e prevede la ristrutturazione completa di quello che è il camerino primo di chi ha la parte più importante nello spettacolo che il teatro in quel momento sta ospitando.